Bentornati a tutti. Oggi è mercoledì, 22 maggio 2024. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Vergine. Sereni e rilassati voi, gli altri no. Rilassati quest'oggi, grazie a Plutone super organizzato nel settore professionale dell'oroscopo e alla vostra ottima programmazione, il lavoro ve pianificate così bene che non vi capita di arrivare a fine giornata con l'aria stravolta. Complici la Luna, Giove e Mercurio, tutti amichevoli, trovate perfino il tempo per dare una mano al collega che sta anaspando, sono gli altri quelli in crisi, pressati, preoccupati per i fatti loro, ma la loro pesantezza non vi tange, all'opposizione del plumbeo Saturno non date spazio, grazie alla pratica dello yoga o dello zen lo chiudete fuori dalla porta mantenendo la mente leggera come un bicchiere d'acqua minerale e altrettanto trasparente. La serenità non si compra, si guadagna con la pratica quotidiana. Unica fatica oggi sollevare l'umore del partner, camomillare il collega o l'amico irritato per traversie che lo toccano in profondità. Un uomo fondamentalmente pericoloso per voi, che recrimina, che vi odia, che nutre del risentimento per voi a causa di presunti torti subiti. Sarà bene restare quanto più lontani da questo uomo perché potrebbe comportare seri pericoli e danni, sia alla vostra persona che alle vostre cose. Incontri sbagliati per i single, fate molta attenzione a chi incontrate in questo periodo. Siete in armonia con voi stessi ma non basta, datevi da fare per partecipare di più alla vita sociale. Un nuovo incontro sorriderà alla vostra vita. Qualcuno si sta prendendo gioco di voi oppure vi sta tendendo una trappola, non mortificate la vostra persona, e prendete le misure necessarie per evitare di cadere nella ragnatela di qualcuno che vorrebbe ridere alle vostre spalle. Lo spirito di amicizia oggi non vi mancherà ma attenti a non straffare perché potreste collezionare qualche delusione. Notizie in arrivo per telefono. Se siete di quelli che amate far soffrire in amore ricordatevi della legge del karma, prima o poi qualcuno lo farà con voi. E per alcuni oggi Marte le prove in ogni modo per mettere il bastone tra le ruote in amore. Buone prospettive per organizzare qualche weekend fuori città o per organizzare qualche piccolo e interessante viaggio. Potrai fare degli ottimi affari. Fortuna al gioco. Serata piacevole. Vivrai una situazione che ti sembrerà di avere già vissuto. Emotività. Se sei giovane e studente i familiari ti aiuteranno finanziariamente. Bene tutto ciò che farà insieme con altre persone. Forte creatività. Nuove conoscenze all'orizzonte. Tuttavia ti sentirai nostalgico e malinconico. Il vostro senso pratico si rivela particolarmente apprezzato dai conviventi in questa giornata primaverile in famiglia. Mercurio vi dona l'intuito per trovare le soluzioni più utili, opportune e convenienti per riunire tutti i componenti del parentado. Gli si aggiunge pure Urano nel segno amico del toro, che non vi fa mancare quel contributo di diplomazia che è necessario per tenere insieme le differenti posizioni e anime presenti nel clan, se siete nati nella terza decade. La vostra salute psicofisica eccellente, specie da un punto di vista dell'umore che si mantiene sempre alto e non di rado manifestando picchi di vivace ilarità. Giornata impegnativa per chi studia, lavora o porta avanti entrambe le incombenze in simultanea, ma anche chi sempre per lavoro o affari si sposta di continuo, in auto, in treno, in aereo. Un mercoledì dinamico a quanto raccontano la luna in se stile e il suo dirimpettaio Mercurio intrigono, non fosse per Plutone esigente che vi fa sgobbare tutto il giorno senza tregua, sarebbe una giornata ricca di soddisfazioni. Infatti le coglierete, ma che fatica! Amore ed Eros. Malinconici i cuori solitari che vedendo le coppiette passeggiare mano per mano nelle serate profumate di primavera si sentono si sentono cani senza collare. Non disperate, piuttosto accendete il sonor del cuore, qualcuno prima o poi avvertirà il vostro richiamo rispondendovi. Magari non subito, ma la bella stagione è piena di sorprese e le vacanze non sono più così lontane. fedelissimo il quattro zampi che attende il vostro ritorno a casa solo soletto, se non siete in coppia e non c'è nessuno a occuparsi di lui durante il giorno, si tiene stretto la vostra maglia e le vostre ciabatte, cercando compagnia attraverso il vostro profumo. Sarete accoglienti, sensibili, ricettivi con la vostra dolce metà, per merito di una luna in scorpione oggi a voi favorevole che vi rende particolarmente dotati oggi di queste qualità. Se il vostro cuore è ancora libero, tenete d'occhio alcuni nuovi contatti che parenti e amici vi propongono. È possibile che tra queste nuove conoscenze, in un ambito decisamente intimo e ristretto, possiate trovare la persona che fa per voi. Lavoro e denaro Staccano visti fino all'ultimo minuto, anche se avete preso accordi precisi con gli amici per una serata in compagnia. Irrisolta invece una trattativa, se l'interlocutore se la piglia comoda rinviando tutto alla prossima settimana a voi non resta che a consentire. Buone notizie in merito a un esame o a un concorso, la vostra domanda di trasferimento temporaneo all'estero è stata accolta. Mercurio, Urano, Venere e Giove ben disposti vi stimolano a lavorare entusiasti e senza stancarvi troppo. Se siete nati nella seconda decade moderate le richieste ambiziose e sappiate attendere il vostro turno. Benessere Stanchi ma contenti, l'unico neo quel filo di mal di schiena che vi coglie verso sera a causa della postura irrigidita davanti al computer. Dovreste sgranchirvi di frequente e praticare un po' di ginnastica o nuoto, la vita non è solo lavoro, anche piacere. Denaro I vostri figli vi fanno spendere tanto? Sappiate, con tutta la dolcezza di cui disponete, esprimere loro il valore del denaro conquistato con fatica, tenendo presente che i no aiutano a crescere e a maturare, di più che i facili consensi. Per lei, area angelica con una punta di malizia nello sguardo, siete bellissime ma nemmeno lo sapete, naturale, non avete l'abitudine di guardarvi allo specchio. Per lui, socio in affari nero come il carbone, non di pelle né di partito, solo d'umore. Rassicuratelo, la vita ha sempre in serbo qualche bella sorpresa. Colore delle emozioni, verde salvia. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7, attività, 8, finanze, 7, benessere, 8. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.